Another one, già un altro oro conquistato dopo la medaglia eridata di Tokyo. Questo è il commento di Massimo Stano, atleta di Palo del Colle, subito dopo aver tagliato il traguardo dei 35 chilometri ai mondiali di atletica di Eugene. Una gara perfetta, con sapiente gestione lungo un tragitto lungo e con il caldo che via via si è fatto più impegnativo. Poi, come sua tradizione, l'allungo negli ultimi chilometri e infine l'allungo nell'ultimo chilometro. Ma nonostante la fatica, è riuscito a deviare di qualche centimetro per raccogliere dal pubblico una bandiera dell'Italia per portarla con sé al traguardo. Massimo Stano ha chiuso in due ore 23 minuti e 14 secondi. Sull'arrivo il dito in bocca, come dedica per la figlia. Quella di Stano è anche la prima medaglia d'oro per l'Italia ai mondiali di atletica di Eugene, a dimostrazione che l'oro olimpico di Tokyo non è stato certo un caso. Anche questo 2022, dunque, ha regalato grandi emozioni nella marcia, ma un campione tale anche per quello che dice. Massimo Stano, infatti, a fine gara ha fatto una dedica speciale ad Antonella Palmisano, altra atleta pugliese che non ha potuto careggiare. La campionessa olimpica, nella 20 chilometri, ha dovuto saltare i mondiali a causa di un infortunio. La Puglia sale, anche questa volta, sul tetto più alto del mondo a ritmo di marcia.